ma scusate ma nessuno mi ha mai imparato niente a schippare le basi proprio tipo un cazzo non si farà niente ora memoria gli do 33 secondi ma anche meno guarda c'era un cazzo di colosso un colosso dove pare si ma rianima varietà dentro la porta come dovrei rianimarsi se c'è un colosso tanto ma perché sto schifo ecco non c'è un sacco appare a ale devi capire questo non mi interessa se quello che fate o non fate voi se la faccio io dai dai abbiamo solo 26 minuti è un'arte molto complessa ti abbia beccato e strazzi a di odio quanti cabals udio diridio simpatico no mi hai fatto ma si stavo cecchilando cos'è cosa in mente al cazzo attento caro smalto cos'è alexio 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 non sto a morire tuttana la maiolica guarda dove mi ha fatto arrivare la maiolica cazzo la maiolica vabbè dai no alexio stammi lontano con qualcosa abbiamo solo 22 minuti è enorme non mi toccare qualcosa enorme per favore non mi toccare con qualcosa enorme che me lo strusci addosso mi fa schifo o l'ho arcado e si muove chi è da tutta sta tipo cos'è sta bolla tattica vedi è stato pronto ci manca pratica che non funziona ma che è qua polla tanto per sapere sono fottuto ho fatto un sacco di sfere non ti dobbiamo inventare si in mezzo a nulla subito mentre vado a sbattere con i muli rainbow six age rainbow six age rainbow six xxx sono morto sono morto no alexio alexio ok 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 e quindi è un caso divergere la sanzia po prostu azione ok 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 okè l'ho ucciso rompiciaccio 캐�acco o dio rompiciaccio contrario Sì, serio? Bepe, bepe, bepe. No, ti odio. Ti odio. Lo vuoi vedere? Lo vuoi vedere? Guarda, no. No, non lo voglio vedere. Tutum, tutum. to... Bello. Wow. Oltre il danno. Ce la dovevo prima, ma non ce la ho più. Pensanti i miei. No! che è successo stavo prendendo prendiamole eh le ho prese per chiamarmi della luce prendiamo le altre ragazzini ma no non ci sono le altre ce le avevo per terra canos gg ma guarda che pandemonio le troppa siamo bassi ti faccio una domanda e forse non ti ha mai fatto nessuno ma sei un 2000 forse non l'ha fatta mai nessuno quasi mai cercate bullet for me si è una storia lunga è una canzone poi la linko è canoa? perché hai voluto essere una canoa? è una canzone poi la linko mi piacciono essere canoa abbiamo poca originalità ok? cioè gli ho poi le stesse canzoni once ha il testo di una canzone io ho proprio il titolo cercate cano il titolo perché si sente più importante cosa? te li ha comando universal? ma esiste? io lo uso solo per cambiare i canali ora lo usano attenzione attenzione che se battuta perché che diverti ti vedo mai stremmare? non ho mai stremmato un gioco non hai mai stremmato volevi dire dai canos ma perché mi passano i raggi e mi fanno i capelli ai lati? canos ma perché qua? si chiama e si nascondeva qui che giocano i pra no e niente stavola non posso sbagliare ho sbagliato lo live si chiama datto se non c'è lezio tutto fa schifo ma lezio c'è ma cos'è quel mirino si lamenta la gente è l'unico che ho sono povero ho appena cominciato ho cominciato però c'è il mitoclassa ma siamo sicuri di voler usare il mitoclassa ragazzi ma quelli con cui lavori sanno che fai lo youtuber sanno che ho fatto cose sì ma non di preciso che cosa non conoscono your canale no 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 your ranale solo nei fine settimana si cano stai droppato così forse così mamma mia san valentino facciamo una prova sentite un torto cano stai droppato cano stai droppato